Musica Nel mirino della polizia ci sono i negozi per la compra vendita di oro a Bari e provincia. Da questa mattina agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Bari sono impegnati in controlli di natura amministrativa nei confronti di una quindicina di società che vendono e acquistano oro usato a Bari e in provincia. Sono state ispezionate licenze e registri contabili di suddette ditte al fine di evidenziare eventuali irregolarità. I controlli arrivano all'indomani della richiesta a gran voce della federazione degli orafi di fare chiarezza sulle modalità operative di questi compro oro ed in particolare di pretendere per legge la registrazione di chi effettua la compra vendita. Statisticamente infatti dove sorgono questi esercizi commerciali si ha un'impennata tra furti, scippie e rapine fino al 70%. La decisione di controlli odierni è stata assunta nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari.